La Sangataldese non va oltre lo 0-0 a Paternò e dopo il buon punto di domenica in casa contro il Locri, Schupa una buona occasione contro la squadra penultima in classifica. La squadra verde Amarando deve ringraziare il proprio portiere Gaetano Dolendi che al decimo della ripresa riesce a sbendare un calcio di rigore e ad uscire dal campo del Paternò con un buon punto. Nelle altre gare la capolista Catania torna al successo in casa contro il Trapani mantenendo il vantaggio di 10 punti su Locri e la Mezzia Terme che battono rispettivamente Real Aversa e Cittanovese. I risultati della diciassettesima giornata del girone I di Serie D. Catania Trapani 2-1, Cittanovese e la Mezzia Terme 0-1, Licata-Sanluca 3-0, Locri-Real Aversa 1-0, Mariglianese-Santa Maria Cilento 0-0, Paternò-Sangataldese 0-0, Sant'Agata-Cireale 4-1, Vibonese-Ragusa 1-0. La classifica. Catania 42 punti, Locri e la Mezzia Terme 32, Sant'Agata 29, Vibonese 28, Licata 26, Trapani 23, Ragusa 22, Real Aversa e Castrovillari 20, Sangataldese 19, Acireale, Canicattì e Santa Maria Cilento 18, San Luca e Cittanovese 17, Paternò 14, Chiude la Mariglianese a 5 punti.